Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 401 il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Bologna e code a tratti in direzione Roma. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si segnalano due chilometri di coda tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno rallentamenti invece in direzione Firenze. In A15 invece rallentamenti per traffico intenso tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Cantieri di Firenze si ricorda che su Viale Matteotti nel tratto tra Piazza della Libertà e Via Cherubini in direzione Piazzale Donatelle in vigore un divieto di transito per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!